A seguito di quei due articolati che sono transitati nella direzione nord c'è un'altra squadra di camion in direzione nord questa squadra di camion che state vedendo sta transitando nella corsia nord purtroppo Mauro è assente e sono qui che approfitto a fare il mare qualche giorno nella nostra farsa oraria. La nostra farsa oraria è dalle 14.30 alle 16.00. Bene, pubblicità a parte quei due camion in direzione sud che vedete c'è questo camioncino e questo auto articolato che vedete. Poi attenzione, quell'auto articolato che avete visto transitare in direzione nord è seguito ovviamente da questa squadra che vedete. Questo è il gioco della la grappa con ghiaccio oppure la grappa di mio figlio. Mio figlio si chiama Zampi che ora è all'università. pubblicità. Due auto articolati, di cui un'auto articolato a sistema e l'altro un'auto articolato normale che stanno camminando nella direzione sud. Poi a seguito di quel camioncino che vedete c'è un'altra squadra di camioncino in direzione nord. E' sempre in onoravo che parla. non ci voglio andare più dai miei parenti per evitare che mi tormentino e che mi bucchino la tocca gelata in fase. Attenzione ora. Adesso vedete transitare nella direzione nord un'altra squadra di camion. Perché una squadra di camion? Perché sono in tutto 5 o 6 camion che stanno transitando in direzione nord. A parte quell'auto articolato a sistema che sta transitando nella direzione o corsi a sud. Questo gioco è il gioco della grappa a cura di nonora, della grappa di mio figlio. perché, come ho già detto prima, il mio figlio è il gioco del gioco. Io ho 53 anni e il mio figlio ne ha 31. A parte quei due camion che stanno transitando in direzione nord, in direzione sud, c'è un'altra squadra di camion in direzione nord. A parte quei due camion che hanno transitato in direzione sud, c'è una squadra di camion in direzione nord. Ho ripetuto la stessa cosa per rimpiescarvi davvero la vostra memoria. e il nonno Rauro che sempre parla. Questi due camion che vedete, questo blu e questo bianco, stanno transitando nella direzione sud. Non mi sono stancato di fare questi giochi e li faccio giusto per farvi divertire. Io non sono come i miei parenti, perché i miei parenti fanno annoiare ed appesantire la gente. a seguito di quell'auto articolato che vedete, amici e amiche, c'è un'altra squadra di camion che vedete. Bene! 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 A seguito di quei due camion 1 e 2 che stanno transitando in direzione nord, per chiudere in bellezza questo gioco della grappa, finiamo in bellezza con questa squadra che state vedendo in questo preciso momento della corsia nostra. Bene, il gioco finisce qui ed un caro saluto ed affettuoso da nonno Carlo che è sempre con voi, alla prossima per un altro gioco.